eccoci becca amici bentornati in un nuovo video sul mio canale allora questo nuovo episodio della mia minecraft danilla il secondo episodio della stagione 222 insomma allora cambiamo schermata riprendiamoci allora c'eravamo lasciati in questo biome nevato sono andato un attimo avanti e ho trovato niente allora cosa trovata questa tipo piscina naturale bellissimo sto posto quasi quasi devo salvare anche le coordinate porca miseria ma allora in questo secondo episodio puntarei a trovare un villaggio o comunque qualcosa di particolare a parte qua che è tutto un po bugato un po tutto tanto bugato diciamo ma si può camminare no non si può camminare sì e qua diciamo che c'è anche bugato per eccellenza di minecraft ma va bene così allora ok iniziamo bene accogliendo del ferro che nello scorso episodio un pochino ci siamo riusciti a prendere ma il ferro serve sempre perché lo sbagliato a farmi armatura mi sono fatto due pezzi uguali l'armatura che cazzo mi servono due pezzi uguali armatura lo so solo io ma va bene così comunque il ferro c'è e ce lo prendiamo che quanto siamo noi siamo a 16 va bene piano piano riusciamo riusciamo a prenderci abbastanza per fare l'armatura allora qua abbiamo questo bel biomaco agghiacciato no un po bugato anche ma io vorrei andare a trovare diciamo un posto dove costruire una casa c'è qualcuno che nuota innanzitutto qua dei pesci va beh andiamo a cercare un posto per fare la casa perché voglio trovare un posto suggestivo non che quello sia brutto ma magari trovare un villaggetto qualcosa di simpatico un posto bello proprio deve essere qua ci sono i coralli ci saliamo le coordinate anche dei coralli perché qua ci torneremo sicuramente 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 faccio anche le bolle sono tutto marine e questo che faccio una capatina qua ma che bello bello questo corallo a barriera corallina bellissimo non torniamo sulla terraferma che sicuramente è più comodo a camminare certo si spiega più cibo ma tutto sommato è anche più comodo allora abbiamo le nuove bacche ah le nuove bacche ci sono qua le cose da raccolto sono in cibo gratis fondamentalmente ma è vero che fanno anche male queste porca miseria mi avevo scordato devono essere buone queste bacche qua queste berries allora vorrei trovare un villaggio ma non penso che tentativi la gelata che esistono no in teoria boh non cercare quello che punto oggi trovare un villaggio certo trovo cose rare tipo la barriera corallina non trovo una cosa comune come un villaggio in minecraft dai insomma beh qua c'è anche un bel sistema di caverne ma sinceramente non vorrei stare ad esplorarlo perché non mi interessa al momento vorrei puntare a cercare veramente un villaggetto giusto per vedere un po come sono scambiate le cose giusto così per però mi sa che sono capito ha capitato in un seed quei villaggi sono lontani con il mio vecchio seed che erano sponati lontanissimi da dal punto di non mi spona 9 d'altronde esplorare minecraft è una cosa normale ecco dai peccato che sennò guarda sennò vedendo diventa un video dove io che cambier corro qua e basta vorrei anche trovare un po di cose insomma ma che bella ancora coralli la mannaggia sono tanti con la tanta roba mamma mia non mi aspettavo che ci fosse così tanta roba di coralli te ancora qua sai cosa io mi farei una casettina proprio qua qua c'è una palla di neve che no sinceramente non ne faccio proprio niente allora qualcosa abbiamo che materiale abbiamo qua proprio un cacchio di materiali poco di legno va bene c'era bene all'incirca bene ma come facciamo questa casa spieghiamo se non si può fare una casa se non si può fare sempre usano cercare un villaggio ce lo facciamo noi allora cosa facciamo qua spieghiamo ancora qua ma si spieghiamo qua ci facciamo un po di spazio e facciamo una casettina simpatica vorrei fare una casa chiara quindi con il legno di betulla perché si rispecchia anche il punto dove sono di sua sabbia che è chiara e con diciamo una parte aperta questa prima volta che ragiono bene su una casa e si è chiaro che è la prima volta che ragiono su come fare una casa in minecraft una casa aperta che da sia la sia qua nella parte più bella quindi angolarmente qua ci metterei un po di vetro appena appena si fa qua dato messo la sabbia mentre tutto qua perfetto allora metterei a cuocere un po di sabbia per fare il vetro e niente allora del limite un attimo il perimetro come lo faccio sto perimetro allora facciamo così facciamo qua 48 non mi basteranno mai nella vita questo lo sposto un attimo lo caccio un attimo di qua vorrei mettere innanzitutto un po di come si chiamano qua si deve vedersi qua di qua ci deve essere il vetro quindi di qua invece ci mettiamo il legno perché così facciamo un po di cose di questo genere qua per capirci vorrei che fosse alta almeno tre blocchi perché perché di sì qua un vista allora sì unica parete dovrebbe essere effettivamente questa è l'unica parete diciamo diciamo chiusa ci metto giusto una fila di vetro qua ci mettiamo a fare i pannelli di vetro dove sono ne vengono solo 16 temo a cuocere altra altra sabbia va bene metto qua c'è tutta la sabbia che e quindi mettiamo i pannelli sperando di non metterli male se no allora tipo una cosa del genere no così devo una roba del genere ci può stare sì ok e dai però gioco pure 2 minecraft non fa quasi a sfregione ok va bene lo fare anche alto ancora un blocco perché allora detto qua facciamo altro così non è una brutta idea è poi qua ci faccio la stessa cosa perché ho intenzione di farlo anche di qua anzi qua sopra chiudo anzi 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 siamo qua il legno partiamo con il legno però da da qua partire con il legno da qua si collega si adesso vorrei farlo così 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 e che discorrendo se abbiamo anche una vista da questo lato di qua questo lo tolgo non mi serve porca miseria con le lastre di vetro qua è un lavoro talmente dato di precisione che uno inevitabilmente sbaglia alla grande e preca male perché poi se non è sick touch qua non ne puoi di riprendere vabbè tanto qua rimettiamo a cuocere la sabbia che serve con quattro non ci fai niente qua non ce n'ho altro vabbè adesso vi spiego qua l'ho fatto così ci stava secondo me farlo in questa direzione di qua ho provato farlo dritto e che guarda verso l'oceano anzi di qua andrea che a togliere questa sabbia qua che disturba la visione di recuperiamo e riusciamo anche a cuocerla e vediamo un po se si completa del tutto adesso mi sa che tolgo un po tutta la sabbia qua sotto e rimetto che ci metto però al posto della sabbia non saprei tronco di abete però l'abete qua sono lontani da prendere quindi non saprei proprio come cosa metterci forse ancora questi non lo so non ho neanche pensato di una porta vabbè la porta la faccio qua dai allora io avevo pensato di togliere tutto questo da pavimento e di metterci queste qua e scortecciare non so se forse forse è meglio mettere in quest'altro modo forse le metterò tutte in quest'altro modo ovviamente devo prendere tante albre di di queste tuttanto legno di questo ma è un inizio ecco è un inizio soprattutto mettere per bene ecco però questo effettivamente lo faremo in un prossimo episodio se riesco a pensare per bene se no non lo farò mai vabbè ci vediamo ad un prossimo episodio è finalmente quello messo bene allora cambiando schermata possibilmente noi ci vediamo quando prossimo episodio quindi a voi ricordatevi di mettere mi piace e condividere commentare vai tutte queste belle cose condividere e niente noi ci vediamo ad un prossimo video ciao ciao ciao